questo brano è lo scritto pensando invece ai musicisti siamo sempre in giro per strada, lontani da casa e tutto quello che c'è intorno a noi potrebbe essere bellissimo ma è anche pericoloso e quindi questo brano è dedicato a tutti i musicisti che ci sono in sala questa sera ed è Far Away From Home Grazie a tutti 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 Grazie a tutti